Occhio! Abbiamo problemi! Occhio! Come a te. Come a te. Capita. Capita. Cosa. Solta! Quattro! Python 2.5, ho eliminato un comandante nord vietnamita. Python 2.5, campo nemico localizzato e neutralizzato. Liberami e andiamocene. Ehi, cowboy! Dicono che c'è una pantera qua in zona. Perfetto, proprio. A volte mi metto ad ascoltare gli uccelli. Mi ricordano una florida. Python 2.5, trasmetto alla cieca. Lo specialista Boyd è con me. È libero. Base Echo, trasmissione ricevuta Python 2.5. Ottima notizia.